Ecco il mister che dopo gli esercizi di riscaldamento è una breve partitella in famiglia, ha portato i suoi allievi, ai piedi della collina, arriviamo al massimo della velocità e poi gli slalom veloci e poi a salire, via c'erano i sempli, via, vai, 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 su, slalom, slalom, uno, due, tre, quattro, cinque, via scatto, vai, vai, vai Pitbull, dai, 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 su, su, Scatto, via, su, rapido, rapido o l'hai in mezzo, rapido, scatto Vai Perru, sì, sì Ecco Nicola Perrucci che arranca la collina Lele Vai Rezzetto Ecco Karan Ecco Riccardo Tocca Dondino adesso Adesso tocca Andrea Ecco Domenico il nostro portiere Anche lui si arrampica Adesso si arrampica Nicola Costantini Adesso match, match, match La libellula Adesso Bartolo Cirillo Con Michele, Michele Lotallona Adesso Alessio Ceroli Pitbull che rifà per la seconda volta Adesso Nicola Perrucci Anche lui si è Ecco man mano stanno riscendendo Ecco parte Adesso parte Dondino, Dondino Adesso si accince Domenico Adesso ci accince Antonio Adesso la nostra libellula Marcello Alessandro Adesso abbiamo Bartolo Adesso Alessio Li tocca a Pitbull Adesso tocca a Nicola Nicola Perrucci Renzetto Cristian Nasuti A presto c'è Karan Lele Teddy Riccardo Andrea Gabriele Gabriele Domenico Antonio Alessandro C'è Ecco il Napoletano Bartolo E Alessio Pitbull sempre In agguato Réunion Rapido, rapido C'è l'ultimo